Voi lo sapete, noi avevamo questa crisi con questa televisione che stavo a fare questo DG stanco, il problema è che io non ho fatti troppi e cercavo qualcuno che un po' mi sostituisce, noi abbiamo chiesto a destra e a sinistra se c'è qualcuno che lo vuole venire a condurre questo DG, basta, deve averci queste caratteristiche, deve essere stanco, la prima cosa, ci deve aver fiatone si fa le scale, deve mangiare tanto, questa è una caratteristica fondamentale che serve proprio anche perché bisogna andare d'accordo con quelli da regia, che ci sta i regista, i operatori, i montatori, c'è tutta una squadra dietro a Stodigistan, come voi pensate uno accenna a picciare la telecamera e se parte, ora volevo parlare di una cosa che sapete qualche giorno fa mi è morto il cane, mi è morto il ringhietto, allora ieri sera sono andato al negozio di animali e ho detto ora mi compro un altro cane, magari mi fa passare tutto, invece ho visto un altro animale e ho detto quanto costa, mi ha fatto un prezzo buono, me lo so preso, me lo so portato a casa, me lo so messo sotto il braccio e quando sono venuto a casa, questo non mi aveva spiegato che animale era, mi ha detto si chiama Tito Maglio, come uno di quelli che sono stati condannati a carciopoli, però è una casualità che si chiama Tito Maglio, e allora che è successo? Sono andato su internet, ho acceso l'iPad, come fanno tutti quanti, che faccio così, che questo è un pezzo di carta, però l'iPad ho visto pure Tiberio d'Imperia, ora fa la trasmissione con l'iPad e si sentono tutti più forti, allora ho guardato la fotografia e insomma mi sono comprato un ornitorinco e a me l'ornitorinco mi piace pure perché è affettuoso, mi lecca tutto quanto, l'unica cosa è che mangia come un disgraziato, ieri sera per dirvi, ora andiamo piano con queste luci perché una di qua e una di là a me state già a rinciturli e praticamente io ho aperto il barattolo della Nutella per farmi il classico di tutte le sere, pane, Nutella e ricotta e questo ci ha messo una zampa dentro, io pure un po' mi sono messo paura quando ornitorinco mi ha detto, la Nutella mi ha piu pure io, non mi ha detto ma mi ha fatto capire, però ho già capito che questo si mangia tutto, ad esempio stamattina quando mi sono svegliato ho trovato il tavolino da cucina su tre zampe perché una sera mangiata, allora il problema è perché i veterinari, no i veterinari, quelli che vendono gli animali non ci spiegano che l'ornitorinco mangiano come disgraziati perché se uno lo sapeva uno si poteva comprare un altro animale, io mi sarei comprato pure un maialino per ditte, ma una cosa uno che mangia ornitorinco mangia come un disgraziato, allora a questo punto se lo sapevo mi compravo un formigliere che mi si mangia tutte le formiche del giardino e stavo più tranquillo, comunque io all'ornitorinco già gli voglio bene, di domaglio mio stasera gli porto un po' di regali, io ho comprato una ciotola, io ho comprato un tappetino per mettersi a dormire, io gli voglio comprare pure una cosa da mettergli al piede più che altro per riconoscerlo perché mi fa impressione se gli fanno le punture all'animale per tegliere per microcippe, allora io ho detto, ora gli compro una catenina, la metto sul piede e così la gente dice se ritrovate questo ornitorinco portatelo alla redazione del TG Stanco che noi sappiamo a chi dallo perché tutti quanti poi sappiamo a chi dallo, ma io mi fermo qua perché pure sta tutta stanotte con l'ornitorinco è stata una faticata perché questo non si voleva addormentare, voglio raccontargli le favole, io manco non mi ricordo più le favole, quindi comunque poi vi porto la fotografia, se riuscimo lo porto pure in studio perché è arto, non mi ricordo quanto è arto ornitorinco, però è un bel animale, io vi consiglio di prenderlo, andate dal negozio di animali e prendete ornitorinco che è affettuoso, soprattutto magna come un disgraziato. Mi spegnete le luci per favore, sono un po' stanco. Grazie. 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 Grazie.